Volevo far vedere questo, ve lo faccio vedere in piccolo così non vi spoilerò niente. Questi sono come io guardo i film, questi sono gli appunti che io ho preso per Duelz, per Inexorable. Vi faccio vedere l'edizione, che è questa qua, è uscita ad aprile con Midnight Factory. E sempre, insomma, la solita edizione molto bella della collana Midnight, con la Marai quello un po' più alto e dentro c'è il libretto e il disco. Ovviamente è come vuole la legge di Murphy, è sempre girato dalla parte sbagliata. Allora, intanto vi dico questo su questo film, ero molto contento di vedere questo film perché è di Fabrice Duelz, autore appunto di Calvert o The Lonely Earth Killer, che poi il titolo originale dovrebbe essere Alleluia. All'interno in più c'è Benoît Paul Vord, che è questo attore qua, che vedete, anziano, insomma, ha una certa età, ed è un attore che io ho imparato ad amare. Insomma, praticamente l'ho visto molti anni fa in un film che adoro, che è Il cameraman e l'assassino, dove è il protagonista. Poi non l'ho più rivisto perché è un attore francese che lavora molto nell'ambito del cinema francese, quindi lo rincontro oggi in Inexorable dopo tantissimi anni. Era un grandissimo attore quando era giovane e ovviamente rimane un grandissimo attore anche adesso. Il film parla di una... ci sono lui e sua moglie, che sono persone piuttosto dell'alta società, diciamo, sua moglie soprattutto. Lui è uno scrittore di romanzi famoso e lei è una... non ve lo dico questo, dico lei è ricca comunque, lei è figlia di... figlia di gente. Perché ci sono tutte delle dinamiche all'interno molto importanti che riguardano proprio i ruoli di potere nella società. Si trasferiscono in questa villa di proprietà loro, con la figlia. Nel frattempo fanno la conoscenza di questa ragazza, una ragazza del posto, che almeno così sembra, che in qualche modo entra nelle loro grazie e diventa a quel tempo la tutrice della bambina, diventa un'aiutante insomma. Quindi abbiamo, a livello proprio di trama, di storia, abbiamo questa casa, che è anche rappresentata visivamente, in modo proprio simbolico. Ci sono delle inquadrature proprio che si fermano sulla casa, vi lasciano proprio il tempo di... Il concetto proprio di casa, di struttura, di casa come il guscio della famiglia. Io ci ho visto questa voglia proprio di dare questa sensazione. Quindi noi abbiamo una famiglia e un elemento esterno a questa famiglia che si insinua, che è Gloria, questa ragazza molto 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 giovane e molto bella. Si insinua dentro la famiglia. Vorrei dirvi di più, ma c'è questa volontà, lo capirete sin da subito. E capirete sin da subito che il motivo per cui lo fa è molto potente. Perché per essere credibile, per arrivare a loro, sarà disposta anche a mettersi in pericolo, a farsi del male, pur di ricoprire quel ruolo, quel personaggio utile a entrare, avvicinarsi a loro. La cosa meravigliosa del film è che piano piano noi andiamo a scoprire la profondità psicologica dei personaggi, tipo appunto quella del padre della famiglia, appunto interpretato da Benoit Polvorde, spero si pronunci così. La psicologia dei personaggi, proprio la sua, capiremo che ha delle carenze affettive, capiremo che ha uno stato di inferiorità all'interno delle dinamiche e delle gerarchie sociali e familiari. Non vado oltre, però ci sono appunto, poi ci saranno appunto da scoprire anche tutte le conseguenze, no? Di queste carenze affettive e problematiche legate appunto alla psiche, alla psiche dei personaggi. La più criptica sicuramente è Gloria, il personaggio più criptico perché in Gloria si nasconde il mistero. Quindi ovviamente il regista racconta la storia cercando appunto di non spoilerare niente fino alla fine, perché il mistero di come lei si comporta e perché si comporta così è fondamentale per trascinare lo spettatore nella storia. Ovviamente a un certo punto subentrerà un elemento di passione, di forte sensualità e sessualità tra questa ragazzina, ragazza veramente appena ventenne se non ricordo esattamente, e questo uomo di insomma 50-60 anni se non di più. E quindi fino a quel momento sarà un film anche con delle componenti di thriller di ansia destabilizzanti perché sentiremo quanto questo personaggio di Gloria sia qualcosa di fuori posto, qualcosa di esplosivo, qualcosa che può veramente mandare all'aria tutto. Questo film di Fabrice Duels rispetto ai precedenti, quindi se avete visto i precedenti, è un passo avanti, però ecco va proprio contro quello che è l'atteggiamento e l'attitudine dello spettatore che dice mi è piaciuto questo, rifammelo. Va proprio oltre, è come se Fabrice Duels se ne fregasse altamente. Ah, fino ad ora mi sto facendo valere per questo tipo di cinema, allora lo ripropongo uguale, lo ripropongo uguale calcando sulle cose che piacciono di più al pubblico, come la violenza. Invece no, invece no. Io ho trovato che Inexorabile sia innanzitutto molto più asciutto ed esteticamente molto più bello degli altri film. Molto più elegante, più sofisticato. Ci sono delle immagini bellissime ed è tutto estremamente perfetto com'è, montato perfettamente. Tutto ha un senso, è un'asciuttezza che non si percepisce, è talmente bello che non si percepisce. Ed è qui che sta la difficoltà nel comprendere il passo avanti che è stato fatto da Duels, perché è un passo avanti che non è solo estetico, dove Duels non ha più bisogno di fare cose estremamente urlate. Non ha più bisogno di quello. Adesso sta... è come se stesse cercando di fare una cosa che negli altri film secondo me è un po' meno forte. Cioè inserire all'interno della violenza, della malattia, della sessualità, dell'ossessione, che sono i temi dei suoi film, quindi l'ossessione, il sesso, visto come qualcosa anche di sporco, di animalesco anche, di primitivo, dentro a questi atti di violenza, dentro agli scontri, dentro alle uccisioni, dentro ai tagli, alle coltellate, ai morsi, piccoli sentimenti d'amore. Quello su cui voglio che vi focalizzate è che cerchiate di vedere quanto momenti di violenza nascondano all'interno tenerezza, compassione, pena, amore. Questo non è meno presente nei film precedenti di Duels, anzi questo è proprio il fulcro. L'amore, la violenza, l'odio, la morte, sono mescolati in queste scene dei suoi film precedenti. Ma qua tutto è molto più sofisticato ed è molto più toccante la parte drammatica, il retroscena che si nasconde dietro a quello che ormai sta accadendo. Ecco, il significato, la pena, il dolore, gli anni, l'accumulo di rabbia, di ogni sorta di sentimento che poi si sfogano in qualcosa che è inesorabile. È inesorabile per Duels, per questa storia, quello che deve accadere. Però dietro a questo finale, dietro a questi atti, la bravura di Duels è proprio trasmettere molto di più di un atto di violenza. Quindi c'è meno violenza, ma c'è molto di più di tutto il resto. È un film molto, molto, molto bello che non arriva direttamente come arriva Calvert, come arrivano gli altri film, non arriva in quel modo. Vi spoilerò solo una scena che non è decontestualizzata, non vi interessa. C'è una scena dove un personaggio si morde il braccio, l'avambraccio, se lo morde da solo. E non è una scena particolarmente gorra, perché non vediamo proprio i denti affondare per l'inquadratura, eccetera. Vediamo solo la faccia appoggiata, insomma, che stringe, e poi piano piano vediamo il sangue che inizia a sgorgare dal braccio, no? Nonostante appunto sia qualcosa che non è esplicitato, non vediamo proprio pezzi di carne staccarsi o cose, è una scena molto dura, perché il film è talmente credibile e tutto è così curato, così bene, che abbiamo proprio la sensazione che lo stia facendo. Non ci poniamo neanche il problema che stiamo vedendo una fiction, che stiamo vedendo qualcosa che è una messa in scena, in scena, una messa in scena, scusate. Questo significa che il film funziona alla grandissima. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, proprio perché non mi ha travolto, non mi ha colpito con le stesse armi con cui mi hanno colpito gli altri film di The Wells. Ha delle musiche stupende e soprattutto io esteticamente ho trovato delle cose veramente molto, molto sofisticate e belle.